ragazzi buongiorno a tutti siamo su stealing the diamond e proprio non ho capito cosa dobbiamo fare qua c'è un diamante gigante e noi pensiamo c'è scritto stealing no non dobbiamo assolutamente rubarlo anche una trama sto gioco ok a questa è la banca bene che facciamo entriamo entriamo spaccando tutto o furtivi vi conoscete devo ok partiamo a k non mi sono accorto che fail k r ok secondo fail questo è quello giusto ok sembra che ce la stiamo e dai però me li mettete così non riesco a capire di nuovo no da capo me l'ha fatto ho sbagliato ok vediamo santa che cazzo e cosa era è re ah si si è quella giusta questa e uno entra in banca super periodata col motorino logico allora vediamo cosa che usiamo mazza chi ha dai dai non è possibile sta roba di nuovo la lancia credo va bene ma si è impedito cazzo c'è cesta solo lo scudo se non va questo funzionato si si ok non serve cos'è le cavo cavo ma così gratta per terra neppi nemmeno ii ha trovato un po' era un un glitz che cazzo aspergine di un giallo effiglio il nightgarden il mercolio esting ok ah c'è il dcta ecco già morti io dico aspetta, tiriamo tiriamo così scappiamo ok, siamo salvi aspetta, andiamo a infatti ok, sasso cosa possiamo fare con un sasso? da caso è capitato è capitato all'acqua però 3 stelle occhio che c'è Mr. L che ci mi ricorda lo sniper di Team Fortress non so perché avevo cliccato dai dai prendi il sasso, prendi il sasso ok ora proviamo la granata nessuno ha mai pensato a sta roba però ci sono adesive e non ti si attaccano alla mano passo ma ci è mancato pochissimo allora proviamo la bolla ok la bolla funziona strano come una bolla davvero e va bene ma però ecco sono morto diamante 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 affungerato sicuramente uno ti roba il diamante tu tu aspetti oh abbiamo vinto in modo aggressivo ok ce l'abbiamo fatta ora no voglio fare questa io tutto silenzioso io in modo quanti ce ne sono eeeh queste dai ce l'avevo così fatta quanto fail quell'antigravità e non andrebbe proprio lì e ce l'abbiamo fa ah ok siamo fregati sei fortunato ho sempre voluto andare nello spazio grazie eeeh questo ah ah c'è una carriera poi non l'avevo visto è un boss e piccone piccone dovrà funzionare ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta eeeh mi sono fai è abbastanza eh sì non mi piace questo eh porra chi 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 ah c'è io ero 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 pistola ma vada ebbè dovevo aspettarmelo ah veloce veloce di che stavi scherzando ah no indietro non voglio provarli tutti liquidificator cos'è ah ok eh ah ok sì sì ok ho capito ho capito posso schifare ecco bravo eeeh lo slender oddio ho inventato qualcosa ok siamo arrivati eeeh ah provato fatto bene fatto bene bomba atomica perché perché dovrebbero tenere perché dovrebbero tenere bombe esplosive in un museo davvero non ci ho pensato eh l'aereo ah sì me l'ho cestuato e poi mi sono fredda è abbastanza lato eh sì non mi piace questo ma porra chiamati lì ah ho avuto qualche siamo a 7 deficienti allora ahah ok proprio un mobile un 2 3 è la Vabbè Non ho capito cosa ha detto No Avanti Di qua Se l'abbiamo fatta Adesso No c'era un quadro Cosa Metroid Pokéball Super Mario Graveball Metroid Ah i cosi Sono un po' aggressivi Questi cosetti Non sembrano tipi da ordini Ma scu- ma Che cazzo Questa non me l'aspettavo Pokéball dopo tutto Credo funzioni Ah e no No mi signo Ma che cazzo dai Windows Guarda come canto Sono messi tutti Era il pokémon bug Quello Super Mash Deve funzionare Sono anche antiproiettile Questo Questo E' però i cannoni E' però i cannoni E' se si ritengono Quello va bene Tengono tutto questo in un museo Ah Da qualche parte nel Nel centro oeste Ah Sì 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 come look at this I'm getting chaos readings at 10.6 it's coming from the museum my god it's over nine thousand yeah I'm leaving this decision up to you corporal just hit one of those buttons to deal with this pressing situation who is watching tv? get back to work! chi sta guardando la tv? ah ah ho capito ho capito ho capito dai fallout fallout no dai no 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 fallout ah adesso arriva la bomba ha funzionato? no eh ma che ca... no ho capito no no non prendertelo a male ha probabilmente camperato per 25 kill e e ha dovuto prendere la bomba e cos'è questo? ah no sono solo quattro diviso zero 1337 diviso zero scusa sono appena andato in bagno ma che è successo tutto? sapete perché? perché non si può dividere un numero per zero ne ho due questa? potevi solo tremerlo non sbatterlo perché hanno messo qualcosa? non ho potuto resistere vabbè l'ultima e questa che fa? ha un cos'è? un multitasking quando vedo ma sono tornati piccoli o cosa? se l'abbiamo fatta se l'abbiamo fatta quanto vedo si no si si se l'abbiamo fatta no perché pensavo stia sepultando noi questo e allora il diamante? ah grazie ho vinto la modalità la cosa epica eh se sbaglio ne abbiamo sentata una c'è quella da verso su abbiamo fatto questa questa teletrasporto questo deve funzionare assolutamente infatti ahhh cosa usiamo? sicuramente il falcon punch c'è solo un uomo che può fare falcon punch dove è andata? invisibilità ok ok sono caduti è difficile vedere quando sei invisibile vero? non c'è mai pensato nessuno tranquillizzante eh eh ah ho capito è andato nella ventilazione è tornato su beh è Penny eh look Penny non c'è mai pensato nessuno porta il gun si che diamo ahia già la cosa si porta ok eh già non funziona mai ma adesso cadiamo per sempre eh e leggetelo voi è il cavo quella più logica eh eh bello eh 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 da us eh 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 vabbè martello eh eh il quadro vabbè l'avvenza scelto prima uh io dico mmm cannone cannone ma perché devo spararmi qualcosa è andato storta sì decisamente almeno l'ha salvato almeno blank blank and after that later stop and arrested him wow ready yeah snappiamoli il collo eh e cadendo per le scalele indietro ma dai e usiamo il fucile qui a lui e madonna che mire che sembro io a call of duty salta vediamo che succede salto epico eh già tutto troppo facile il diamante l'unica cosa funziona abbiamo vinto abbiamo vinto la la modalità come si chiama la modalità silenziosa ok ragazzi è stato bello portarvelo ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti